buonasera siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana tempo fa abbiamo fatto la recensione del vestito rosso con la manica sfarzosa a sbuffo è un tipo di manica molto attuale ultimamente in grado di rendere speciale un semplice vestito e oggi con voi impareremo come costruire questo tipo di manica la lezione sarà divisa in due parti nella prima parte impariamo a fare il carta modello e nella seconda parte lavoreremo con il tessuto e realizzeremo la nostra manica la mettiamo poi sul manichino e vedremo il risultato ad alcuni può sembrare semplice prendiamo una manica apriamo la cuffia e siamo pronti ma in realtà non è proprio così non è semplice abbiamo davanti a noi il davanti e il dietro del corpino base e abbiamo anche la manica vorrei dirvi già da adesso che dovremmo ritagliare la manica non solo una volta ci saranno più fasi della costruzione la prima cosa che vorrei dirvi è che sempre quando abbiamo a che fare con maniche così ricche tanto arriciate e pompose la cuffia deve essere sempre sempre alzata di 4 5 centimetri nel caso del vestito rosso abbiamo alzato di 5 centimetri se non fate questo la manica non sarà la bombetta sarà una semplice manica arricciata cioè non avrà quella cuffia rialzata come vedete nell'effetto della manica la prima cosa che facciamo è togliere la pace della linea spalla sia sul davanti che sul dietro tolgo le pens perché mi disturbano quando lavoro con la spalla in questo momento non è importante dove trasferisco se nel fianco oppure nel centro davanti l'importante è toglierla dalla spalla per poter lavorare poi in seguito il mio obiettivo è avere una spalla intera senza pens quindi abbassiamo un po' nello stesso modo trasferisco anche la pens dietro ed ecco il mio giro manica dalla spalla tolgo 5 centimetri e metto punto 5 e voglio poi abbassare il giro di un centimetro e poi abbasso di un centimetro e poi uniamo questi punti con il punto 5 sono due passi l'ordine non è importante uno abbassare il giro manica e due a togliere 5 centimetri dalla spalla le linee che unisco i punti possono essere sia quasi dritte sia leggermente curvate in questo modo vedete queste linee questi due punti sono importanti queste sono importanti e guardate la linea può essere dritta così o leggermente curva così decidete voi come vi piace poco poco prima una linea dritta e poi mi aiuto e faccio questa un po più curva e scrivo sopra spalla e taglio le due parti abbassate non mi servono mentre quelli della spalla ci serviranno per la costruzione della manica e per favore come dico sempre fate linee belle questa regola vale sempre le linee devono essere belle e armoniose e non aspettatevi un risultato perfetto se non seguite questa regola e con questo il nostro lavoro con il corpino è finito cosa abbiamo abbiamo il davanti e il dietro con il giro abbassato e con questi due dettagli che abbiamo tagliato questi dettagli adesso saranno uniti alla manica ora vi farò vedere come si fa bene metto da parte il corpino e lavoriamo con la manica scrivo davanti e dietro come per la manica reglan tagliamo un po la lunghezza 7 8 cm e la parte alta di circa 10 12 mm stessa cosa ci facciamo con la piccola pens curva vi ricordate che nella manica regla noi facciamo questa modifica c'è 7 8 in lunghezza di centimetri e circa 10 12 mm in larghezza la linea non è importante dobbiamo semplicemente togliere questo pezzettino ecco vedete io ho tagliato questo trucchetto serve per capire dove andiamo a mettere i due dettagli posizioniamo rispettivamente il pezzo davanti con il davanti e il pezzo dietro con il dietro una cosa è parlare altra cosa è fare per questo io voglio farvi vedere molto bene ecco cosa abbiamo questa è la prima fase se adesso decidesse di chiudere questa pensia e unire la manica al corpino avremmo una specie di manica raglan e invece noi da questo punto andiamo a costruire la nostra bella manica pomposa trasferisco su un nuovo foglio di carta la manica che ho ottenuto adesso questo non ci serve più tolgo e butto scrivo poi il davanti perché ci serve e unisco questi due punti con una bella linea mi raccomando questa parte non si taglia e siamo arrivati alla seconda fase ma neanche questa è la versione finale ritaglio di nuovo a metà questa pens e segno il centro della manica grazie a tutti questo non è ancora la manica pomposa ma è già una manica con cuffia alzata disegniamo la linea centrale qui sarà la prima linea di taglio poi facciamo altre due linee a 3 cm da quella centrale ecco 3 e 3 ancora 3 e 3 al polso la distanza del centro non sarà a 3 cm ma a 2 2 e 2 e 2 e 2 tagliamo su queste linee se facessimo tagli perpendicolari il tessuto cadrà in modo perpendicolare mentre in questo caso il tessuto si distribuirà verso il centro e farà un effetto più bello e più elegante per la nostra manica questo è importante capire vedrete poi l'effetto della manica pronta poi apriamo i tali alla distanza che ci piace come vedete la costruzione di questa manica è davvero in più fasi al centro ci sarà una piega baciata e poi altre due pieghette su entrambi i lati vedrete poi come si fanno le pieghe sapete che il nostro lavoro richiede pazienza decidete voi la lunghezza nel mio caso la mia manica arriva al gomito la manica iniziale era lunga 37 cm vedete sono 37 voi prendete la lunghezza che vi piace nella parte bassa come vedete apro pochissimo non più di un centimetro al centro in alto ho la pens che nel mio caso è di 8 cm vedete sono 8 cm apro altri 2 cm e arrivo a 10 vuol dire che la mia pieghetta baciata sarà di 2,5 cm per ogni lato 2,5 cm a sinistra e 2,5 cm a destra metto i spili e vi dico cosa altro fare attenzione anche in basso appro di di un centimetro, non di più. E con un pernarello rosso segno il centro della manica. Apro la seconda a 5 centimetri. Qui 5 e la prossima sarà di 4. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Metto i spilli sempre con la stessa logica, meno di un centimetro in basso. E per l'ultima piega apro 4 centimetri nella parte della cuffia. Sempre in basso un centimetro, non di più. Ed ecco la nostra bellissima manica. Ci sono tantissime varianti di modellistica, ma io vi faccio vedere una. Questo è quello dell'abito rosso. Qui faccio 4 centimetri. Adesso prendo il piano nero nero. Alzo di altri 2 centimetri la cuffia nella parte centrale, da qui. E disegno una bella linea seguendo in parallelo i punti delle parti aperte. Questi punti non serve proprio farli. Cioè dovete fare una linea biologica. seguire sempre una linea armoniosa è bella. Ripeto ancora, i centimetri che abbiamo appena aggiunto nella cuffia in larghezza ci daranno la pomposità della manica. Se avessimo solo alzato la cuffia senza allargarla avremmo ottenuto la forma della manica a mezzo raglan. Una volta che avete capito la logica della costruzione di questo tipo di manica, immagino già da adesso che sarà super figo. Come vedete la parte bassa si è curvata. Ecco perché fare l'orlo a maniche di questo tipo non vanno semplicemente girate e cucito il bordo. Si rifinisce con una paramontura. Ricordatevi questo. Signore pieghe. Passo con il pennello rosso così vedete dove saranno. Vedete io li segno in rosso così si capisce che qua sono le pieghe. segno sempre tutto in anticipo perché dopo non vuole avere mal di testa e pensare cosa era e dove era. ed è finita anche la terza fase. Abbiamo costruito la nostra manica in tre fasi. Mi sembra un po' troppo largo nella parte bassa. tolgo qualche centimetro dai lati e ritaglio. chi vuole arricciatura nella parte bassa prego dovete solo aprire un po' di più. questa è solo una delle tantissime varianti di manica pomposa che esistono. L'importante è capire la logica della costruzione. Poi potete variare come vi piace. Poi potete variare come vi piace. ed ecco che la nostra manica base si è trasformata in una manica particolare. Qui avremo le nostre pieghe. Adesso purtroppo sulla carta non sta fermo. Ma capirete l'idea. Vedete? Cerco però sulla carta non è così facile. Ma un'idea ve la rendo adesso. Con l'aiuto di queste pieghe otterremo l'effetto bombetta. E prima di finire diamo una controllata alla bellezza delle linee. E vedete qui alla cuffia c'è qualche millimetro in più. Vedete? Va benissimo non preoccupatevi. Sono quelli che ci danno il volume. Vedete? Qui anche se c'è qualche millimetro in più ci aiutano per dare il volume. Non starà piatto ma avrà quell'effetto rialzato. Nel prossimo video vedremo come sarà il risultato sul tessuto. Indosseremo la manica al manichino e vi farò vedere come fare con il tool. Sotto. Mi piace pensare che con l'aiuto dei nostri tutorial sarete sempre diversi. Magari cucerete anche per vostre amiche o per clienti in queste nozioni vi saranno utili. Tutti adesso cercano qualcosa di interessante e nuovo. E noi ci impegniamo di creare qualcosa di nuovo e interessante per voi. Con questo vi saluto. Mettete like. Condividete i nostri video. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci. Con voi siamo stati noi. Paolo Stirena Mihailovna e tutto il nostro team. Alla prossima con tante altre novità. Ciao. 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 Grazie a tutti.